Mi chiamo Caterina Franchin e sono docente di lingua spagnola presso l'Istituto Stringer di Udine e autrice di materiali didattici per la scuola media. Ho frequentato l'Università degli Studi di Udine, la Facoltà di Lingua e Letterature Straniere e mi sono laureata nell'anno 2000 in spagnolo e in inglese. Da allora ho sempre lavorato e penso di aver insegnato lingua a persone di tutte le età, dai più piccini con progetti lingue nella scuola dell'infanzia, scuole superiori, corsi serali per adulti, corsi di spagnolo aziendale presso le aziende e contratti di docenza presso l'Università degli Studi di Udine. Questa diciamo è stata la prima fase della mia carriera, in una seconda fase anche per motivi familiari ho cercato di inserirmi nella scuola statale in cui lavoro ormai stabilmente da cinque anni. Amo il mio lavoro, amo stare a contatto con gli studenti, è un lavoro che è diverso un giorno dall'altro e auguro un grande in bocca al lupo a chi deciderà di intraprendere questo mestiere.